9 per Occulto e Orleans Blond queste le quote del totalizzatore quando mancano 200 metri al punto dello stacco a parte Omega di Nokia adesso arriva sono tutti a rete si ritrae Wasorar si parte con l'errore di Otto Bonn veloce ostinato Diff lungo la corda ma a largo pressano Otto Nekot e Omega Di No l'errore di Orinoco Guasimo sta passando dopo 200 in 13.8 Occulto che ha fatto partenza pure lui a tabellone è finito Otto Bonn imitato anche da Orinoco Guasimo Occulto ha ribattuto a Omega Di No che cerca di ascodarsi ma lì c'è ostinato Diff poi Omega riesce a scendere seconda 28.5 i primi 4 ostinato Diff esce dalla corda per non farsi coprire o perlomeno fa mezza ruota di dentro c'è il favorito Uncle Foto VL che però adesso dovrà trovare da correre i 600 in 44.1 33 dopo lo strappo rimasta fuori Omega Di No e così One Foto si trova secondo la corda addirittura ma però si formano le pariglie non ha destra libera in vantaggio occulto nei confronti di Omega Di No che chiude One Foto quindi ostinato Diff ancora One Arrow Gard la metà gara in 59.7 con un parziale in 31.3 con Omega Di No che continua a tre quarti da Occulto One Foto VL che è alla corda e adesso forse ferma per uscire di fuori perché ostinato Diff non tiene la pariglia il chilometro di Occulto in 1.14.7 36 dal palometretto apposta con Omega Di No sempre proteso su Occulto quindi One Foto che sposta ostinato che sbaglia One Foto cambiazione va l'attacco di Occulto in breve lo passa per allungare 1.29.2002 con un parziale in 29.4 One Foto VL stacca dalla compagnia lascia gli altri a lottare per le piazze con Occulto che è ancora in seconda posizione e One Arrow Gard che prova a migliorare l'ingresso della retta per il favorito anche il Foto VL 50 metri più da percorrere per tutti gli altri One Foto vince da cavallo scappato Eric Bondo e Roberto Andreghetti in dispersione per il secondo One Arrow Gard per il terzo Oscar Di Mira 1.57.4 28 anche la chiusa 1.13.4 la dispersione e la tripletta a seguire per anche il Foto VL Roberto Andreghetti in riguardo